ragazzi benvenuti e ben ritrovati sui miei canali e io sono magnus oggi siamo qui su destroy all humans 2 riprodite probabilmente come saluto il video come siamo tutti su un bel commento un bel mi piace la versione remake del gioco che uscì nel lontano 2006 esce su pc ps5 xbox serie x ed s non lo proviamo sul pc il gioco sugli alieni che ha praticamente spopolato per cui curioso di provarlo visto che lo hanno perfezionato imprevedibile no deceased so what is being problem the problem is that neurons can clone themselves and pose convincingly as human and they use these abilities to put cryptosporidium 138 into the white house and the american people are not noticing even worse this new crypto cloud contains pure pure on DNA harvested from human brains by orthopox dirty mastermind of the invasion he also bears a mysterious mutation referred to only as the package these aliens pose a dire threat to the soviet union comrades and so must be destroyed as we speak president krypno is in bay city attending of you and orthopox and orthopox good learning experiments in the furan mothership savages degenerate there's only one way to meet with such men revolution that can't be good greetings you expect me to pay human no little fear i expect you to die or or my or 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 dire in me ci vorrebbe il carica massima c'è lontano scala le tue vittime un vero pugnale la mente per annullare la carica questo momento ok perfetto carinanza telecine le tue vittime un vero pugnale le tue vittime un vero pugnale esplode che è l'esplode virtual pox è un tipo construttante non è? beh, i ragazzi non possono essere chiusi ho bisogno di portare un sacco grandi sai dove posso prendere un sacco dove posso prendere un sacco di un sacco ho riuscito a gestionare un sacco di datacore prima che la macchina è stata riuscita potresti poter riuscire alcune strade da loro se potessi trovare alcune ma sicuramente non sarà facile ok, quindi dove sono i datacori? questo è proprio quello potessi trovare entrato l'atmosfera a qualsiasi tempo a qualsiasi posto e quindi ho avuto in ogni quale ho riuscito a trovare solo uno è stato evitato dopo la mia unità di Holopox quindi si è arrivato molto vicino ok, menta ma scuola, dico la per una sola ah, ecco bene dove va ok deve non esserti portato armi non ho portato non ho portato ma sicuramente l'artiglia non è proprio la forma più semplice oh, ho 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 ci stavamo un po' tagliando ci stavamo un po' tagliando allora prendi il mio che ho dati da questa parte l'ambientazione non sembra tanto malvagia ok, certo che picchia non volevo punire poi sta venendo giù tutto ma non mi conviene andare mi conviene andare da su che mi sta sparando cerchiamo da questa parte non vai più veloce no posso entrare anche dentro casa no c'è qualcuno che ci spa c'è qualcuno che ci spa ok perfetto c'è c'è che figo mi sa che devo entrare ma che sta qua dentro non lo vedo occhio ci mettiamo il sacco dentro ah da qua ho capito ah madonna sta venendo meno tutto eh sta venendo meno tutto eh sta venendo meno tutto eh ok è fantastico ora dobbiamo cap... vado bene male che non abbiamo preso ok non so se c'è niente dove sono però vabbè vediamo un po' ci riesco a beccarlo ok dovrebbe essere da questa parte vai vai l'arma sembra potentissima carica l'arma per ottenere rimbalzi più letali quindi e rilascio ok eccetti grandi come le auto rimbalzano ma solo se è caricata al massimo non soviensi qualche miseria mamma mia per cambiare si non so se c'è non so se c'è meglio questa ok ancora che arrivano eh no lo riesco a beccarlo al massimo ok ok così funzionava dove andiamo? non sai che abbiamo completato quello che dovevamo completare e infatti c'è le furgone è anche abbastanza bene la storia sembra rimasta tutta uguale vabbè quello che ci avevano detto oddio ovunque informe i crumlin che ci saranno proseguiremo con l'opera come è stato diciamo che necessitiamo tanto rivoluzione come potete da agent e l'america distributore? non 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 Il sembrava molto entusiastico sull'idea. Il sembra che si sta spreadando una rivoluzione in una coppia. E così si dovrà, ma non mi credo di quello che si aspettano. Idealisti. E spettano loro! Stalin, ha capito. Ideas possono cominciare rivoluzioni, ma i gulagni e i gulagni finiscono. Sì, non importa. Poi, i gulagni di Bay City saranno sbagliati su una molto buona giornata. Mi stava cagando proprio. Ah, questo me l'avevo dimenticato, avete fatto gli articoli? Noi, non mi credo. Noi, non mi credo. Ma la mia mente è ancora girata. Che cosa succede qui? Perché ci sono i russi? Perchè, sono più preoccupato con come la KGB ha gestionato una scuola sulle straccia. Non sono in solito così organizzati. Nei troviamo a trovare le cripto, prima di che ci siano più sorprezioni. Ok, quindi cosa? Mi cominciamo a toccare le porte e faccio i giocatori? Non lo so! I KGB non sono probabilmente probabilmente svolgere se ti cominciai indiscriminativamente spettando gli uomini! Si, beh, ho fatto un po' spettacolo. Beh, stop! Ho fatto un po' di ricerca nei fili criminelli di un constabitore Apparentemente c'è un informante nella città di Baye che sempre sapeva di quello che sta subito nelle strade Channo lo chiamano... The Freak The Freak, eh? Si, ho ho sentito di lui Cat ha connessioni all'interno È un po' di un bambino Dato che ho sentito, non ho bisogno di più di più Il vive in sua propria, mental, lava lampa Ma se alcuni di quelli che conoscono il KGB, credo che lo conoscono E io suggerisco che lo scendete e scendete quello che conoscono Ok, enough chit chat I'm off per trovare il nostro piccolo hippie, Fran, The Freak Ok Le armi ancora non ho ben capito Ops, signorina Bello Anziamoci un po' se siamo del cervello, eh? Che succede? Ok Ma che problema è? Calibro per stringere Comincia la festa e colpisce abbastanza le mani con la mura libero A livelli a letta più alti serviranno più ballerini per scatenare una testa Ok Ma... Ah, ok, così Perfetto Perfetto Possessione Possessione Possiedi un poliziotto Ok, forse ho capito No Ma mica mi sparano Becchiato Ah, perché mi hanno sgiamato Oh Oh Aspetta Vediamo di fare così Ok, così non mi dovrebbero sgliamare Oh, se sono perfetta Ah, ah, ah Ok Leggi pensieri di creatura contro il sindaco per dare il tuo bersaglio Ok Scansi uno Non è possibile Non ho capito 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 Da questa parte La scansi una è una figata pazzesca Non ho capito Non ho capito Una cosa che si scorda Sempre a questo Si Non ho capito Non ho capito Probabilmente sulle ponte Facendo la routine di monta Il mio amico Che ucciso Ma Pazzolo Lontanino però Ma dove sta La capanna sta Eccolo No Non ho capito Ippi Possono Ah, devo diventare Ippi Allora Ehm Ok Vai Eccolo Beh, ce che ho bisogno è informazione. Cosa sapete dei Ivans e dei giusti giusti che avvicinarono la nostra partita? Voi dire quelli KGB-cats? Sì, questi ragazzi sono strani, ok? Ci rendono Jack Lorde sembrare come Abbie Hoffman. Ma che non avvicinarono, ragazzi! Ci sono invitati! Chi... invitati... ... il KGB... ... per... ... il KGB... ... il KGB... ... il KGB... ... non lo so il nome del KGB... ... ma si chiama il KGB... ... il KGB... ... che è abbastanza vero. Assolutamente, è un mestiere di meditazione di tantrici e di sanità spirituale. Alla scena è che il KGB ha i gatti di cucca. ... 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